Sempre al tuo fianco, grande Lucio, i tuoi fans sanno solo insultare e minacciare bella roba i fascisti, Gio Porchetta, va a farla finita, non sono fans intanto, ma sono persone che condividono il mio stesso ideale, i fans ce l'ha l'Orella Cuccarini, io non sono l'Orella Cuccarini, sono persone che condividono il mio modello d'Italia e insieme a loro riprenderemo l'Italia e tu starei a guardare, ma lo faremo anche per te e per i tuoi figli, tu sai perché? Perché io ho il cuore tenero, basta se come l'hambretetto tanto non conti niente, numero 10. Lei ci assicura una manifestazione pacifica, non ci sono le tensioni... E' assolutamente pacifica, io non sarei qui. Va bene. Mottate la pizza, mottate la pizza, mottate la pizza, mottate la pizza.